siamo qui nel deserto e qui guarda pieno di arance arancetti che belle quella tecnicamente essendo fuori se cade fuori è di nessuno però l'immunizia per terra c'è anche qui è strano vedere sto verde guarda sti fiori qui c'è la casa nascosta non si vede anche qua sopra chissà che problemi di acqua che avranno quale d'estate però guarda quante arance c'è una per terra no non si può se cade fuori non si può non si può che strada asfalto incredibile, liscio, lisissimo c'era il cartello che avvisava i motociclisti che ci sono state 5 vittime negli ultimi anni e si può essere controllati da elicotteri e droni anche perché questa strada qua ti fa troppo... mamma mia che roba con questo asfalto qui chi è che riesce ad andare piano? Andalusia veramente promossa sto provando a far guidare la macchina da sola arriva nelle curve però qui ho visto la moto non mi son fidato io aspettate rimettiamo la guida arriva prima delle curve, frena e imposta la curva da sola vediamo qua il limite scende a 40 la macchina frena in chioda praticamente fino a 40 però prima mi ha fatto delle curve c'era il limite 70 rallentava faceva la curva si la fa leggermente a scatti perché adesso qui naturalmente rispettando il limite di velocità sta andando molto piano però riesce a fare tranquillamente questa strada che è molto... tra due chilometri tieni la destra per rimanere su alto molto movimentata diciamo così e la sta facendo da sola adesso malgrado io avessi accelerato la macchina comunque rallenta io ho il piede sull'acceleratore però la macchina rallenta per poter fare la curva e sono curva e già con un bel raggio ma che roba la macchina di fianco ci sorpassa lasciamo andare ridiamo io non sto facendo niente tengo un po' l'acceleratore perché il 40 all'ora è troppo lento siamo già a un buon livello questa curva qua ad esempio l'ha fatta anche abbastanza come si dice senza tanti scatti vediamo questa è male sta riuscendo bene buona leggermente adesso ha leggermente frenato ma io ho sempre il piede sull'acceleratore quindi allora lasciamo andare 50 all'ora e prima andavamo a 70 comunque no no molto fluida molto fluida sto facendo qui perché non c'è assolutamente nessuno traffico quasi inesistente sì l'unica cosa è che rispetta molto i limiti di velocità e quindi noi che non siamo abituati comunque anche il traffico che non scorre proprio al limite qui 50 all'ora ci vado solo io adesso però è veramente tanta roba proviamo ad arrivare a quella curva lì allora il limite è 50 mi sta avvisando che l'autosterzatura è limitata fino a 50 che il cruise control non effettuerà la frenata poi invece lo fa lo stesso perché se io accelero vediamo la macchina comunque fa la curva adesso purtroppo devo girare quindi non gliela faccio finire però andiamo riprendiamo la strada gli do subito la guida e vediamo un po' adesso siamo nel paese tra l'altro non dovevo venire qui ho sbagliato carino anche questo paese qui predomina come sempre il bianco ci sono tutte le luminari di Natale ci sono 22 gradi sembra stranissimo vedere le luminari di Natale che bello qua molto molto bello io poi vado a infilarmi in tutte le stradine che bello sta murale è sfatto bene molto ordinato molto pulito bello anche qui con questi balconcini già da lì sono un po' allontanato dalla strada che dovevo fare cioè che vado a ricercarla sto attraversando tutti i paesini carino anche questo che bello guarda guarda che bello sto paesino che bello quell'albero carino sto tutte le inferiate le finestre ora tieni la sinistra per rimanere soccale devi fare spesa stanno mangiando tre e mezzo stanno ancora mangiando noi non abbiamo impostato 85 km orari vediamo ha fatto la curva prima l'ha fatta un preciso viene l'avrei fatta io così vediamo eh sta frenando da sola ha frenato tanto però la curva poi lui accelera qui non non frena neanche tantissimo sta facendo la 75 sta guidando veramente bene anche più veloce di quello che andrei io adesso qua c'è il 50 freno complimenti brava Tesla sono dimenticato di accendere la telecamera prima ci siamo incastrati dentro in un paese strettissime adesso non è più strett stiamo cercando di uscirne e ho paura che ce ne sia ancora parecchie a guardare il navigatore dove va la strada adesso quale sarà quella per uscire da sto posto il navigatore dice dritto andiamo dritto c'era un cane dove è finito lì sembra quasi una via uscita un po' più proviamo apri gli specchietti ora tieni la sinistra e prendi calle dell'uno qua però la macchina elettrica ti permette di non impazzire con la frizione le quattro volte motrici di uscire da qui ma questa è una piazza e non c'è uscita dove è l'uscita da qui però è arrivato un furgoncino quindi se c'è arrivato il furgone qui è più larga a destra e prendi calle della ermita cerchiamo di uscirne qui è larga ma ci siamo andati a incasinare dai che forse riusciamo a uscirne certo che sto paesino qui è è dritto ora tieni la sinistra e prendi calle della ermita di cagare dai che ce la facciamo uscire io vado sempre a cercarmi guai e qua c'è qualcuno che sta confermando il navigatore felice passerotto schiacciato è un quarto d'ora che siamo accasinati di dentro nel paesino ce l'abbiamo fatta la macchina elettrica è noiosa io voglio fare il puntatacco scusate andate a cagare cioè ci si diverte un casino se trovate una strada così macchina elettrica secondo me batte la macchina termica poi voi avete tutti la BMW M3 e allora vi divertite io vi diverto con questa è di macchine potenti col cambio ne ho volute guardate che roba sto andando piano non sto esagerando però più o meno ma io ho voluto uscire eh ma ci stava ogni tanto bisogna guidare così non c'è nessuno c'è un asfalto bellissimo qui con il K si che ci divertiva quella a destra è la Sierra Nevada il parco della Sierra Nevada nooo sul più bello stavamo giro la telecamera ti faccio vedere che che risultato risultato un'avvento a mille una strada pazzesca adesso siamo qua ci fermiamo a fare pausa arancio qua c'è un lago lì è tutto asciutto quella parte lì sul navigatore me la dava piena d'acqua quindi vuol dire che è basso rispetto al solito non so se è un lago artificiale con diga adesso poi guardo stiamo stiamo scendendo dalla Sierra Nevada tra un po' arriviamo andiamo giù andiamo giù sul andiamo giù sul sul mare facciamo un po' di costa manca 100 km a Malaga che oggi ci siamo divertiti una giornata bellissima e questo pezzo qui è stato realmente bello da guidare consumato pochissimo molta discesa quindi consumato anche pochissimo bello Spagna veramente veramente promossa questa parte qui non l'avevo mai fatta mi sta piacendo molto siamo a Malaga cosa particolare qua ci sono due corsie questa qua dove sono io è 30 all'ora perché viaggiano anche biciclette e io non l'ho visto dalla regia mi dicono che c'era un topo che attraversava non l'ho visto poi guarderemo nel video dicevo questa corsia c'è il 30 all'ora posso neveggiare monopattine e biciclette e in quella di fianco 50 vedete il cartello corsia di destra 30 all'ora e preferenza quindi io preferenza forse albe meglio mi togliessi ma visto che io sto andando piano perché sto cercando di capire dove devo andare andiamo di qua particolare sta cosa non hanno creato una pista ciclabile ad hoc ma hanno creato una corsia dove anche le macchine devono andare piano e qui direi che stanno andando tutti abbastanza piano quindi se tanto mi da tanto io sono l'unico in questa corsia mi sto un po' stufando adesso mi sposto di corsia perché non c'è nessuno in questa corsia o è quella del disonore o non so se si può andare o meno il disegno delle biciclette qualche macchina c'è ma la maggior parte stanno di qua andiamo dietro a loro per non fare casini ok con la Mercedes mi ha soppassato a destra mi sta soppassando tutti nella corsia 30 all'ora a capirci qui stiamo già entrando qua c'è il porto a sinistra c'è il porto siamo già quasi al centro anche se mi da 2 km e 7 la bellezza di 10 minuti per farli cosa che non credo possibile Burger King siamo entrati dall'alto Malaga eravamo in una periferia molto carina con delle belle villette adesso vediamo di capire che tipo di città è non ci siamo informati prima di partire non avevamo idea né se partivamo quindi non abbiamo neanche perso tanto tempo a decidere cosa fare per cui di giorno in giorno decidiamo cosa cosa fare non ci siamo I can't remember if I loved you, but it feels like I do when I think about you now, 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 now. Allora, Paso de los Curas. Ora tieni la sinistra e prendi Paseo de los Curas. Oh, che bello qua. Qua c'è il porto. Adesso mi sposto di corsia. Dice sempre una corsia a 30 all'ora e due corsie col 50. Sono le 6.20 e è ancora chiaro. Spostandoci verso ovest, verso il fuso orario più in là, le giornate sono più lunghe. Quindi ci sembra stranissimo, 6.23. Vedere ancora chiaro al 3 di gennaio, 2, 3, non so più neanche che giorno non è. Passiamo sul lungomare. Qua c'è il porto con le gru. E poi arrivi nel parcheggio dell'albergo e, sorpresa delle sorprese, non era segnata, non te lo aspettavi. Un Tesla Destination Charge. Quindi sono arrivato con il 25% e adesso l'ho attaccata, ho chiesto, è gratuito. Comodissimo, lo lascio questa notte e poi domani mattina la sposto in un parcheggio di questi dove non dà fastidio. Tanto domani non si muove la macchina. Fantastico, andiamo a vedere un piccolo resoconto. Purtroppo ho attaccato la macchina prima di andare a guardare i dati, per cui non so, oggi dovremmo aver fatto circa 300 km, avevo consumato poco. E, aspettate, andiamo un salto a vedere dentro in macchina. Allora, andiamo a vedere se si vede qualcosa nei viaggi. Comunque abbiamo fatto fino adesso 2.407 km, 399 kilowatt, 400 kilowatt, 166 di media perché oggi, devo dire la verità, la macchina ha consumato pochissimo e io mi sono divertito tantissimo perché abbiamo fatto la strada qui vicino alla Sierra Nevada, è stata veramente veramente bella. Benissimo, andiamo. Lo so, dovevamo andare a mangiare le tappe, se eravamo stanchi, pizza hut e taco bell. Un po' troppa roba, però vabbè, per stasera siamo qua alla stazione, eravamo stanchi. E vai, e vai di porcherie. Grazie a tutti.